Il libro nero sulle ferrovie abruzzesi è stato pubblicato da Feder Consumatori e Tino Di Cicco. Voi in questo libro mettete in evidenza tutte le criticità del trasporto ferroviario nella nostra regione. Oggi c'è questa conferenza stampa proprio qui in stazione anche con i rappresentanti di Ferrovie Italia. Qual è la situazione e quali sono le maggiori criticità? Noi siamo abituati a muoverci in un certo modo, cioè vogliamo sezionare, selezionare un problema alla volta. Altrimenti il rischio è che si parli di tutto per non raggiungere alcun risultato. Oggi abbiamo evidenziato il problema sulla direttrice triati, il collegamento Pescara-Milano. Noi pensiamo che nel giro di due anni si possa collegare Pescara-Milano con tre ore e mezzo col treno, anziché le 5 ore e 20 attuali. È un obiettivo possibile, l'incontro di oggi è tutto finalizzato a questo obiettivo qui. Noi abbiamo una estrema sensibilità nei confronti di quelle che sono le esigenze del cliente, che non chiamiamo più neanche cliente, chiamiamo persona. Perché le persone viste a 360 gradi con tutte quelle che sono i loro bisogni, quando sono in viaggio e anche quando non lo sono, quando il viaggio lo devono preparare e quando rientrano. Per cui oggi siamo qui ad ascoltare, siamo qui a dare anche delle notizie, delle informazioni e a far comprendere come c'è questo impegno. È un impegno che si svolge nel servizio regionale, attraverso un contratto di servizio, quindi attraverso un committente che è la regione che chiede quello che reputa necessario per le esigenze dei suoi cittadini. E attraverso servizi che sono definiti a mercato perché non ricevono alcun contributo se non i ricavi che derivano dalla vendita dei biglietti e su quali comunque l'attenzione al cliente è estremamente elevata. Perché appunto il cliente e la persona che viaggia con noi è il tesoro più importante che abbiamo. Ma c'è una penalizzazione della fascia adriatica rispetto alla fascia tirrenica? Non credo, anzi direi se andiamo sul tirreno sostengono dal mio osservatorio nazionale l'esatto contrario. Perché prima si parlava di freccia rossa, freccia argento, freccia bianca e freccia rossa sulla triatica corre e consente quando arriva a Bologna di viaggiare sull'alta velocità e non altrettanto succede in questo momento sulla tirrenia.